Tirano fuori le manette, mi mettono le manette, mia madre sviene, mio figlio si è gelato di fronte a questa immagine, non avevano fatto finta addirittura di non vederlo, mi hanno portato via con la forza, mio figlio da quel giorno ha avuto 6 mesi di imperturbabilità e io non me lo dimenticherò e gliela farò pagare quando sarà finito questo processo Quando tu esci però, le manette non ce le hai più, in mezzo alla strada Non fare così perché oggi veramente litighiamo, perché forse se sei stato pagato, vuoi ancora i tuoi soldi per venire in trasmissione e fare le tue scenate da buffone, allora quando si parla di queste cose, stai a te, guarda come sei vestito, sei vestito da un 60enne, sei vestito da un buffone che va in televisione, con gli occhiare arancione a fare, però perché dobbiamo deviare? Ma perché uno che di fronte a una roba del genere fa così con le mani, ma che cazzo ne sai? Io, poveraccio, ti compro e si mette in giardino a scrivere libri che ne ha chiuso a scrivere. Questo è sbagliato, scusa, io voglio farti una domanda vera, tu dici che... Ma come si permette? Un attimo, scusate... Babbo Natale voglio chiedere... Ma dai, ma lasciamo... Ma dai, ma lasciamo... Perché dobbiamo? Perché dobbiamo? Perché dobbiamo? Perché io voglio chiederti, vorrei chiederti, vorrei chiederti, perché uscendo... Io ti compro e ti metto in giardino a scrivere libri, magari ne vendi uno. Perché tu prima, tu hai detto che ti hanno messo le manette, all'uscita non avevi le manette. Analfabetta. Analfabetta. Scusami, scusami, va bene, è fatico... Però perché dobbiamo uscire su questo? Vi prego, allora, ci sono delle pagine scritte, possiamo uscire... Ma perché devi uscire... Perché devi uscire... Mi insegno anche il giornalismo... Perché devi... Oltre che l'estetica... Oltre che l'estetica... Oltre che l'estetica... Oltre che l'uomo... Ti chiedo una cortesia... Semi, va bene... Perché tu esci... Perché tu esci... Perché... Perché tu esci... Lo ti ha detto ci hai ferito ancora una volta... Ti ha urlato conto con rabbia perché tutti hanno detto ancora una volta hai fatto... Certo. Adesso queste cose... Fatelo riportare anche dell'Avvocato Chiesa... Magari... Magari pensa il... Il pagliaccio qua di fianco che... No, no, no... Non dobbiamo, sai... Perché sta andando... Scusami, però te lo dico da... Da persona che ti conosce... Allora... L'ho detto prima di dire questa cosa... Allora... Io, Massimo, te l'ho detto... Te l'ho detto prima di dire questa cosa... Certo. Se io apro il mio cuore... E apro il mio privato... In una trasmissione giornalistica... Certo. Non accetto un buffone... No... Che fa così con le mani... Senza sapere quello che dice e di cosa parla... Di cosa sta a parlare... Dimmi di cosa parli... Va bene... Dimmi perché hai fatto così... Di cosa parli... Dimmi... Adesso farlo parlare e dimmi di cosa parla... Però devi... Devi... Però devi... L'intellettuale di sto cazzo... No, vabbè... E questo esce la cosa peggiore... In cui lui non ha la parola... Un attimo solo... Un secondo... Arrivo... In cui non ha la parola... Arrivo... In cui non schiamazza... No... Oh dai... Siamo venuti qui ad ascoltarlo... Mi pagate per ascoltarlo... Mi pagate per ascoltarlo... Dai... Mi pagano per fare il buffone... Ascoltarlo veramente troppo... Però... Siccome quello era un momento delicato... Sì... Che lui ha vissuto... Sì... E ci ha raccontato... E ho capito... Ma diventa una perorazione... E allora... Il rispetto di quegli attimi... Poi ognuno dice quello che vuole... Poi io non ho detto nulla... No... Non ho detto nulla... Non ho detto nulla... Vabbè... Possiamo andare avanti... Possiamo andare avanti... Ragazzi... Stavamo ragionando su un fatto delicato... Io... Quel momento lì... Poi la polizia arriva... Fa tutto quello che vuole... Ognuno ha una responsabilità oggi di quello che dice... Però certamente... Questa è l'immagine che gli fa perdere la testa... Perché lui dice... Io ero lì... C'era mio figlio... Mia madre che piange... Ma diventa una perorazione... No... Lui sta raccontando... Stiamo facendo una perorazione... Allora... Allora... Un attimo... Non sai neanche cosa significa perorazione... Allora... Allora... Senti Giovanotto... Allora... Tieniti calmo... Allora... Tieniti calmo Giovanotto... Possiamo uscire... Possiamo uscire... Possiamo uscire da questa cosa... Non facciamo il termometro delle sofferenze altrui... Lui ha sofferto... Va bene così... Per carità... Ha sofferto... Io credo che abbia sofferto... No... Ho detto qualcosa... 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 Lo detto qualcosa... Ho detto qualcosa... Grazie a tutti